Per cominciare la proiezione in piazza, voi siete tutti lì a guardare questo schermo, in questo momento ci sono io. Ricordo che c'era un gran diavai di persone nei Porticati, nel Lungolago, il festival a Locarno si sente proprio nella città, mano a mano che passava il tempo, il sole andava giù e cominciava a crearsi quell'atmosfera con le rondini che cominciano a rimbombare con l'eco della piazza, piano piano si stavano spegnendo le luci e lentamente cominciava a entrare il pubblico. Io mi ricordo un'emozione pazzesca, quella tremarella che ti viene come quando sei attore e stai in palcoscenico in quinta e senti il vocio del pubblico che entra. E' un po' di vedere il film per la prima volta in assoluto, perché quando vedi il tuo film sul grande schermo, su quello schermo così gigantesco, hai la percezione di vedere cose che non avevi mai notato, perché tutto si dilata, tutto diventa più grande, i respiri, la recitazione, gli sguardi degli attori. Un grazie doppio a voi che siete pubblico e giurati, ma soprattutto grazie a Piazza Grande.